I musei civici di Firenze a Ferragosto in totale dal 14 al 16 sono stati venduti 6.254 biglietti in aumento rispetto all'anno passato con un incremento di 1.759 ticket strappati. Solo il giorno di Ferragosto sono stati venduti 2.153 tagliandi con un più 780 rispetto all'anno passato a Palazzo Vecchio il 15. Ci sono stati 1.100 visitatori. Un risultato, afferma l'assessore Tomas Osacchi, che ci rende particolarmente orgogliosi non appena le condizioni sanitari lo hanno consentito. Abbiamo scelto di aprire i musei civici perché siamo convinti che proprio la cultura sia uno dei cardini della ripartenza. I numeri di questi giorni, continua l'assessore, sono ancora la migliore risposta a chi temeva che il Green Pass avrebbe scoraggiato i turisti. I nostri musei si sono subito fatti trovare pronti per la partenza del certificato verde.